Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi mi trovate con gli occhiali da sole perché vi voglio parlare di un argomento che è accecante per la bellezza, ovvero degli affreschi eseguiti da Gian Battista Tiepolo a Würzburg nella residenza del Principe Vescovo. Chiamato a Würzburg nel 1750 dal Principe Vescovo Carlo Filippo di Grefenklau, il 54enne Gian Battista Tiepolo realizzò la decorazione della residenza, grazie anche all'aiuto dei figli Gian Domenico e Lorenzo. Sono due i luoghi in cui si esprime il genio veneziano, la Kaisersaal e il soffitto dello scalone del palazzo. Nella Sala del Trono Tiepolo doveva raffigurare alcune scene legate alla diocesi di Würzburg e tra gli stucchi bianchi e dorati del ticinese Antonio Bossi il pittore raggiunge un effetto fastoso soprattutto nella scena dell'investitura del Vescovo Aroldo e nelle nozze di Federico Barbarossa e Beatrice di Borgogna. Un'iconografia medievale, i due eventi sono del 1156 e del 1168, che nonostante tutto sprone il pittore a delle vette decorative altissime. A proposito di questo ciclo decorativo voglio citarvi quello che disse l'importante storico dell'arte inglese Francis Haskell nel suo fondamentale saggio Patrons and Painters, mecenati e pittori, uscito nel 1980. Il plero tedesco, seppur di nobile origini, non poteva vantare gli avi romani dei clienti veneziani di Tiepolo e in ogni caso la vita medievale costituiva l'unico possibile precedente appropriato alla loro realtà feudale in piena età illuministica. Ma ciò non preoccupò Tiepolo, che situò decisamente la scena nella Venezia cinquecentesca, dove per lui si svolgeva tutta la storia. Appena terminata la decorazione della Kaisersaal, Tiepolo accettò di dipingere anche il soffitto del grande scalone del palazzo, con un affresco raffigurante ai quattro continenti che rendono omaggio a Carlo Filippo di Grefenklau, uno spazio tra i più grandi mai decorati all'epoca di Tiepolo, ben 600 metri quadrati di superficie. Il tutto con una straordinaria maestria tecnica e un'inesauribile vena compositiva. Egli sa genialmente alternare gli episodi gloriosi della casata di Würzburg inserendo particolari esotici. A partire dalla raffigurazione del continente americano, poco più in alto troviamo l'apoteosi di Apollo. Agli altri tre lati troviamo le allegorie dell'Africa, dell'Asia e dell'Europa. Quest'ultima di fronte al pianerottolo a testimonianza di una sua centralità visiva e ideale, dove troviamo anche i ritratti di Tiepolo e dell'architetto tedesco Neumann, autore dell'intero complesso residenziale in forme squisitamente barocche. Questa decorazione strepitosa verrà portata a termine da Tiepolo in soli tre anni e lascerà a Würzburg, oltre che una meritata fama e ricchezza, anche l'eco della pittura più gloriosa di Venezia, quella del Veronese, artista cinquecentesco tra i più capaci nel raffigurare delle composizioni con questo illusionistico sotto in su. Ebbene siamo arrivati alla fine anche di questo cecante video su Tiepolo. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere mi piace al video e ci vediamo alla prossima.